Un'unico dei più grandi maestri del XV secolo nel Museo Bargello è il David, da Donatello. Ma il comissione di Donatello's David, creato negli anni 1400, è ancora non sicuro, era probabilmente Cosimo il Vecchio, perché il documento prima che attestava al lavoro rivela che era posizionato nel Palazzo Medici, ora Palazzo Medici Riccardi in Via Cavour. La rappresentazione della figura biblica e protettora della Repubblica Florentina era, inoltre, noncomana per i tempi. Donatello's David ha quasi elementi intellettuali. Il guardo delicato di questo uomo, inoltre, trasmette la propria caratteristica della nuova. Il risultato di un anno di un anno di ristorante in giù 2007 e era portato a sito nel museo. Grazie alla tecnologia laser di arte, che è usata precisamente per i bronzi di rinascimento, molto dell'origenza di oro che decorava la statua è recuperata. Il David da Donatello, di Bargello Museum, Chiara Valentini, C10. Grazie a tutti! Grazie a tutti!